... Bentornati, c'è la fine qui su Climbing Planet, io sono sempre Victor Laszlo 88 Allora oggi voglio parlare di un film che mi interessava parecchio Un po' perché il trailer mi aveva incuriosito, un po' perché c'è Tom Hardy come protagonista Io lo considero uno dei migliori attori della sua generazione, infatti negli ultimi anni lo trovavamo un po' ovunque Sia in grandi blockbuster che in film più indipendenti come ad esempio Locke È un attore poliedrico che si adatta a qualunque ruolo e ha anche una fisicità dirompente Che gli viene sicuramente in aiuto, però guardando questo film sono rimasto parecchio contrariato per molte cose Sto parlando di un film del 2015 per la regia di Daniel Espinosa ed è Child 44 Allora, questo film è tratto dal libro scritto da Tom Rob Smith pubblicato nel 2008 che si chiama Bambino 44 Quindi tradotto letteralmente Io ho iniziato a leggerlo prima di vedere il film, però non l'ho finito in tempo Ma da quello che ho potuto vedere ci sono diverse differenze, come è giusto che sia Solo che sono abbastanza sostanziali e cambiano un po' il tono della storia Perché se io vedo il trailer Child 44 e mi paventano un film ambientato nella Russia Sovietica post Seconda Guerra Mondiale Con un caso da risolvere, quindi un giallo Mi aspetto che la componente centrale della pellicola sia proprio quella del caso da risolvere L'elemento thriller insomma E invece Daniel Espinosa ha preferito utilizzare il caso come pretesto per raccontare gli orrori della Russia stalinista E dei violentissimi metodi di repressione dei cittadini e non solo che venivano utilizzati dal partito E effettivamente l'atmosfera di terrore viene comunicata alla perfezione Non lo nego questo Solo che è stata un po' travisata l'essenza del romanzo Perché tutto questo c'era, ma era amalgamato perfettamente con l'elemento da romanzo giallo diciamo Perché comunque per quanto Tom Hardy sia stato bravo, perché è bravissimo Per quanto sia stata efficace anche Numila Pace che interpretava un personaggio abbastanza antipatico Che io sinceramente avrei preferito vedere sviscerare meglio Perché prima sembra una stronza, poi invece no Insomma è stata sviluppata un po' così, però diciamo che funziona Perché si fa odiare tantissimo quando ce n'hai bisogno E poi invece ti viene quasi da perdonarla quando magari compie un'altra azione Ma il problema non è quello, il problema secondo me è come è stato gestito il ritmo Perché va benissimo che tu cerchi di farmi capire quanto fossero orribili le cose all'epoca Ci sta tutto, però non puoi basarmi un film di due ore su questo Facendo passare in secondo piano quella che poi è la sottotrama purtroppo qua Più interessante non dovrebbe essere una sottotrama Io capisco voler sviluppare la psicologia dei personaggi Voler permettere allo spettatore di empatizzare con loro Ma così è troppo Oltretutto il ritmo è anche abbastanza lento Perché non si capisce dove il film voglia andare a parare Perché comunque a un certo punto sembra che venga data molta importanza Alla questione dell'assassino Però è una cosa che rimane sempre sotto la superficie Quindi non si capisce se vogliono dargli l'esalto Se non vogliono farlo Oltretutto il libro di Smith È diciamo ispirato alla vicenda del macellario di Rostov Cicatilo Anche se in realtà il tutto è poi trasportato Su un'ambientazione precedente rispetto ai fatti realmente accaduti Perché Cicatilo ha ucciso più di 50 fra donne e bambini A partire dalla fine degli anni 70 Per cui l'epoca era completamente differente A questo punto se voglio vedermi una storia interessante e intrigante Su questo avvenimento Mi guardo e vilienco con Malcolm McDowell Che è veramente bello quello Io adesso l'ho visto parecchi anni fa Magari poi riguardandolo mi rendo conto dei suoi molteplici difetti Però ho un bel ricordo di quel film Ancora oggi a distanza di parecchio tempo Ci sono delle scene che mi sono rimaste impresse nel cervello Anche perché Malcolm McDowell Ovvero l'Alex di Arancia Meccanica È un attore straordinario Che ha questo viso abbastanza inquietante Diciamolo Inivienco è naturalmente più anziano E secondo me rende perfettamente come pazzo assassino incontrollabile Diciamo che la figura dell'assassino qui Poteva essere gestita di gran lunga meglio Hanno cercato di farci capire più o meno Che tipo di persona fosse Con delle scene inserite un po' a cazzo a mio parere E non sono riusciti a rendermelo interessante Era un personaggio che potenzialmente Poteva spaccare il brutto E invece hanno preferito lasciarlo in sordina È stato un errore gravissimo Io non sono di quelli che vogliono una trasposizione pedisse qua Dell'opera originale Quando si parla di un film trattato da un libro, un fumetto o quant'altro Però almeno che le basi siano rispettate Io non so, adesso continuerò a leggere il romanzo Ma anche chi lo ha letto già da tempo Mi ha confermato che hanno veramente mischiato la carta in tavola A parte alcune cose che sono effettivamente state trasposte fedelmente Il resto è un po' un pastrocchio Ed è un peccato perché la materia per rendere questo film interessante C'era e anche il cast non era niente male Che è stato gestito malissimo Perché Tomardi è il protagonista E lui abbiamo modo di conoscerlo bene Abbiamo modo di apprezzare alcuni suoi lati caratteriali Di odiarne altri È un uomo apparentemente molto austero Ma che mostra anche una certa umanità Riusciamo a conoscere Raisse il personaggio di Numira Pace Che a me è stato parecchio sul culo Però capisco le sue motivazioni Perché sono state messe giù più o meno bene Anche se avrei qualche riserva anche su questo Poi c'era Gary Oldman Che naturalmente compare pochissimo Un po' come in Episode Revolution Che sembrava di essere uno dei personaggi più figli Che in realtà poi compariva in tre scene se è tanto Oddio qua compare leggermente di più Ma comunque rimane un personaggio di contorno Anzi se lo avessero utilizzato di più Sarebbe stato anche bello A questo punto Già che avevano cambiato un sacco di cose Metti un po' di più i personaggi di Gary Oldman Che comunque scenicamente funzionava molto E poi c'era anche Vincent Cassel Che io neanche avevo riconosciuto all'inizio Interpreta un ruolo abbastanza marginale Importante ai fini narrativi per l'amor del cielo Però comunque è più marginale di quello che mi sarebbe aspettato Invece non sapevo che ci fosse Joel Kinnaman In questa pellicola Ultimamente lo stiamo vedendo Abbastanza anche lui È stato recentemente coprotagonista di Run All Night E poi vabbè Tempo fa era uscito il remake di Robocop Di Padilla in cui lui era protagonista Che a me non era dispiaciuto Devo essere sincero Preso per quello che è E sembrava dovesse essere un personaggio Anche lui abbastanza ai margini E invece salta fuori Che è un personaggio importantissimo E porca puttana anche interessante Kinnaman è stato molto bravo Perché qui interpreta un personaggio sgradevole Fastidioso Che non puoi non detestare E lui ha la faccia giusta Perché ha questo viso un po' arrogante Non che lui sia arrogante Ma nella parte dell'arrogante ci sta perfettamente Perché ha una fisicità Una fisionomia Che effettivamente ti suggerisce Quella del personaggio arrogante È molto bravo lui ovviamente Anche a cambiare l'espressione facciale Quindi è stato molto bravo E non me lo sarei mai aspettata Quindi questo Kinnaman inizia a promettere Bene direi Non che lo si sia visto in ruoli maestosi Però finora quello che ha fatto L'ha fatto abbastanza bene Se calato nel contesto dei film A cui ha preso parte Quindi è stata una sorpresa Assai gradita Ora io ho apprezzato molto Certi sviluppi della trama Solo che arrivavano troppo lenti Quando si inizia un pochino A concentrarsi sul caso Dei bambini uccisi Ormai è già troppo tardi Perché il tutto viene dilatato Non ho visto proprio Come posso dire I guizzi che mi aspettavo Oltretutto il film è anche abbastanza lungo Dura due ore o poco più E sinceramente Il tutto appesantisce la visione Io sarà che Ero un pochino stanco quel giorno Ma neanche tanto Non più del solito Comunque non so se lo sapete Ma dormo due o tre ore a notte Quindi sono sempre stanco Ma a Ero in sale A un certo punto ho pensato Mamma mia ma basta Perché c'erano proprio dei momenti Che erano morti Che si potevano tranquillamente snellire O tagliare Non lo so Il punto è che C'erano tutti i presupposti Per rendere questo film Un thriller della Madonna Non li hanno usati Hanno preferito concentrarsi Su un discorso di natura politica Che però Lascia anche un po' il tempo che trova Perché per tutto il film Non fanno altro che Ripetere le stesse cose Per l'amore del cielo In maniera visivamente efficace Ma dopo un po' Che vedi questi Che sono violenti Che perpetrano sopprusi Da anni dei più deboli L'abbiamo capito L'antifano Non serve un film di due ore In cui fanno tutto questo E in cui poi Non si risolve nulla Io ho capito anche Che c'era la volontà Di scavare Nell'animo del personaggio Di Tom Hardy Per cercare di far luce Sulla sua vera natura È un mostro Non è un mostro È una persona Che fa quello che è necessario Ma in realtà Il suo animo è differente Sì Probabilmente L'intento era anche questo Però Ripeto Due ore di film Per arrivare a questo concetto Cioè Lo facevi capire Tranquillamente Nella prima mezz'ora Se proprio Volevi dilatare questa cosa Per cui Non sono Assolutamente Rimasto Colpito Da quasi nulla Devo essere sincero L'atmosfera Ok Ma anche lì Dopo un po' Ti viene a noia Allergia Allergia Secondo me Non è Niente di che Nel senso che Non ci sono Scene In particolare Che mi abbiano Fatto pensare Cazzo Questo spinoso È proprio bravo Tra le cose Ha diretto Qualche film Lui se non sbaglio È danese Uno di quelli Più conosciuti È Safe House Che io non ho visto Sinceramente E questo Diciamo è Il suo primo film Per il grande pubblico Comunque anche Con un caso del genere Il traino c'è Il problema È che non solo Alcune scelte Cioè Diciamo Le scelte registiche Non mi hanno colpito Ma alcune Mi hanno colpito In senso negativo Perché le scene Di combattimento Che non sono moltissime Ma ci sono Sono veramente Dirette male Ma male nel senso Che non capisco Chi sta dando i pugni A chi C'è una scena Un Diciamo Combattimento nel fango Non voglio dire Non voglio dire nient'altro Ma non sto parlando Di combattimento nel fango Di donne in bichini Sto parlando di combattimento Nel fango Tra omaccioni Che se ne danno Di santa ragione E un po' perché Gli attori Erano effettivamente Coperti entrambi Dalla fanghiglia Un po' perché La regia Era molto approssimativa Io vi giuro Che non riuscivo A capire Chi fosse in vantaggio Chi le stesse prendendo È stato Un momento Da mal di testa Ma ho visto Anche altre persone Che burbottavano Perché effettivamente Tu non puoi Inserire una scena madre E non dirigerla In maniera Adeguata Non puoi Cioè da regista Professionista Non te lo puoi permettere Soprattutto Non con Una storia del genere E un cast simile Questo film Poteva essere Dinamite Ora io non sto dicendo Che sia un brutto film Che faccia schifo Perché i brutti film Sono altri Sto dicendo che Dai presupposti Che erano stati gettati E non sto parlando Del treno Io parlo dei presupposti C'è un libro solido Che fa da base Abbiamo attori Che porca puttana Se utilizzati bene Ti spaccano Veramente lo schermo E dopo tutto questo Arriva un film Che comunque è mediocre È assolutamente mediocre Non nego Che a qualcuno Possa piacere Perché ho sentito Di persone Che sono rimaste soddisfatte Ma non si può neanche Gridare al capolavoro I capolavori sono altri Questo non ci si avvicina Neanche allontanamente Ma non Non lo definirei Neanche un buon film Cioè Non è brutto Ma non è neanche bello Se dovessi dargli un voto Sei ma proprio Ma sei scarso La sufficienza A malapena Ti presenti Quella sufficienza Per il rotto della cuffia Che prendevi Quando avevi studiato poco Ecco quello Cioè nel senso che Vedo il ruggito In sordino Sento che il film Ha qualcosa da dare Ma Gli hanno dato Un regista Quindi qualcuno Il cui compito Era quello di Tirare fuori Il potenziale del film Che non ce l'ha fatto Io spero che Questo Spinoza Possa Rendersi contro I suoi errori Correggerli Nei film futuri Se Dirigerai altri film Ma penso di sì Perché comunque Ho sentito critiche discordanti Riguardo a questo Child 44 Anche perché Una storia come quella Di Rostov Anche se in realtà Il personaggio Nel cicatino Ma il succo è quello Andrebbe secondo me Trattata con meno Superficialità Doveva essere Proprio il punto Focale Dell'intera pellicola È una storia Interessante Atroce Che forse si meritava Un po' più di spazio Non puoi limitarti A inserire Il ritrovamento Sporadico Di cadavri Di bambini Nella prima metà del film E poi far appassionare Per Qualche Minuto Il personaggio A questa cosa Perché anche quando Iniziano le indagini Poi La storyline Personale Dei personaggi Subentra Distogliendo completamente L'attenzione Dalla 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 Vicenda Delle Sirachie Anche quando Stanno indagando Il Diciamo Il focus Non è puntato su quello E Non va bene Non va bene Per un film come questo Non lo so Io sono Sono molto deluso Da questa cosa Anche perché Io Tra le cose Vorrei vederlo In lingua originale Il film Perché In italiano Non hanno Dato un accento Russo Marcato Ai personaggi Cosa che a quanto ho capito In lingua originale Invece Avviene Tanto Tomardi Quanto Gary Holman Eccetera Hanno Un accento Giustamente Russo E un'altra cosa Però appunto Che un po' Mi ha fatto Storcia il naso E che io capisco La sospensione In credibilità La finzione Però Non lo so Non riesco a vedere Come credibili Questi personaggi Come Abitanti Della Russia Sovietica Post Seconda guerra mondiale Sono troppo perfetti Troppo Non lo so Troppo Cioè Sono troppo costruiti Troppo artificiosi Capito Non so come spiegarvi Cioè Si vede Che sono attori Statolitensi Che cercano Di interpretare Personaggi russi Cioè Non so neanche bene Come spiegarvi Forse Questo Lo percepisco Perché Non hanno dato Proprio L'accento russo Ai personaggi E Non riesco A A Crederci Alla cosa Sarà anche quello Una scelta Che forse Può anche starci Non so Sarebbe stato Magari ridicolo Sentire I doppiatori Scimmiottare L'accento russo Non lo so Solo che questo Toglie gran parte Della credibilità Della cosa Perché io sono sicuro Che se avessi sentito Tom Hardy Gary Oldman Numera pace Parlare con un smaccato Accento Russo Allora forse Li avrei visti di più Come personaggi Che cercavano di spacciarmi Così Cioè È come per Avengers Age of Ultron In italiano Hanno evitato Di mettere l'accento dell'est Come invece se non era Nella versione originale A Pietro Evanda E ci poteva stare Perché Anche per il tono del film Poteva risultare ridicolo Perché erano solo loro due No? A parlare in quel modo Sarebbero i risultati Degli stereotipi Ma qui è tutto ambientato Nella Russia sovietica Degli anni cinquanta Per cui capite che forse Capite che forse Un minimo di medesimazione In più Avrebbero dovuto metterla So che sono questioni spinose Che non è semplice Riuscire a rendere Gli accenti Che risultino Stereotipati Per l'amor del cielo Però qualcosa Avrebbero dovuto fare Perché Qui si parla Della versione Doppiata Quindi della versione italiana Non lo so So solo che Già il film Aveva preso una piega Che non mi piaceva In più C'è anche il fatto Che non riesco a credere Che quegli attori Interpretino in maniera credibile Certi personaggi Insomma La visione ne è stata Parecchio inficiata Per cui Non lo so Io Non sono rimasto Per niente Soddisfatto Da questo Child 44 Anche A livello fotografico Ho cercato a rientrare Questa fotografia Spenta Che Sia in linea Con il tono del film Un tono in cui Vengono privilegiati Gli orrori Non tanto Della Russia sovietica Perché Questo è solo un pretesto Per parlare Di che cosa Si è capace l'uomo A volte Che cosa Possano fare gli uomini Pur di ottenere E mantenere il potere È qualcosa di terribile E ancora più terribile È sentire I veri personaggi Osannare Stalin Come se fosse un dio Cioè Hanno centrato in pieno Questa cosa Il problema È che Sì La fotografia Rende Questo concetto Però dopo un po' Mi risultava un po' Artificiosa Era sempre troppo Cioè Ti mostrava Della atmosfera Che quasi a un certo punto Erano irreali Non so bene come spiegarvi È un film Che come grosso difetto Ha l'artificiosità E secondo me Per un film Che vuole raccontarti Di un periodo storico È un po' Il male Se poi ci aggiungiamo Il problema Il problema di ritmo Il problema Di Come posso dire Del fatto che Non si capisce bene Su cosa cazzo Voglio appuntare Dal cento E quindi Se prendete Tutti questi elementi E li mettete insieme Capite che Il film È quello che è Quindi più di sei Non posso dargli Però so che Sicuramente A qualcuno è piaciuto Anzi Me ne avete dato conferma Perché ho visto Molte persone Che erano abbastanza entusiaste Io non ce la faccio A entusiasmarmi Per un film del genere Perché Veramente Ha tanti difetti I pregi Sono veramente Ma veramente pochi Quindi Non ci sono neanche Colpi di scena rilevanti Sinceramente E anche quando succedono cose Che avresti voluto vedere Non ti danno La soddisfazione Che ti aspettavi Il finale L'ho trovato Un po' troppo Improvviso E anche abbastanza Stucchevole Dal mio punto di vista Poi Le mie sono opinioni Non verità di fede Però Io l'ho trovato Un po' stucchevole E l'epilogo Non mi ha fatto impazzire Perché ribadisce Un concetto Che per tutto il film Viene continuamente Posto in primo piano Quello Di quale sia La vera natura Il protagonista Che veramente Si potrà risolvere In due secondi netti Quindi Questo era quello Che pensavo Su Child for the fall Fatemi sapere Un commento così sotto Cosa invece Pensate voi Del film Se siete d'accordo Con quello che ho detto Se non siete d'accordo Perché Non siete d'accordo Nel caso Se vi è piaciuto Spiegatemi Cos'è che avete apprezzato E cosa magari io Non sono riuscito a cogliere Perché Credo sia interessante Confrontarsi su questo Io vi abbraccio Che voglio tanto 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 bene Adesso farò Però non lo so Cioè voglio dire Alla fine Lui È vero È nella Diciamo Nella schiera Dei potenti È un militare Però non mi sembra Cioè il punto è questo Cercano tutto il tempo Di dire Ma io sono una persona Cattiva Oppure no Però lui non sembra cattivo Cioè ha fatto cose brutte Per l'amore del cielo Però mi sembra Che quando c'è il momento Di tirar fuori Il suo carattere Lui sembri buono Alla fine Quando lui dice Lei Ma io sono Secondo te Sono un mostro E vanno via Con i bambini Che hanno adottato Che sono quelli Che aveva ucciso Vassili All'inizio Che lui aveva Era riuscito a salvare Perché stava per ammazzare Anche loro Le due bambine E io sinceramente Allora Se mi avessero fatto Vedere delle cose Terribili Del personaggio Avrei potuto capire Oddio Poi ti fanno vedere Quando ammazza Il Diciamo Il militare Quello dell'MGB Che era il professore Che sembrava Molto amico Della moglie Di Raissa Quando in realtà Era appunto Anche lui un bastardo Lui cosa fa Lo ammazza Quindi lì vediamo La natura del protagonista Però di particolari Altre cose Secondo me Cioè Potevano renderlo Molto meglio Questo concetto Cioè L'ho capito L'ho capito Ma si poteva rendere Ancora meglio Per cui A me Il personaggio Il mio apace Ha fatto incazzare A un certo punto Perché voglio dire Se ho capito Va bene Che si è incazzato Però lui non mi simbra Una persona cattiva Quindi smettila Perché lo sta distruggendo Questo povero uomo Mi ha dato proprio fastidio Poi lei capisce Che lui in realtà È buono E ce l'ha capito dopo Cioè Bisognava Che è successo Tutto sto casino E vabbè E quindi il film Ruotò intorno A loro due Che per appunto Lei viene Accusata Di tradimento Quindi Lui Non la vuole denunciare Li mandano In cura il mondo Verso vicino Rostov Dove c'è appunto Gary Oldman Che è il Logotenente Di quel posto Insomma Non lo so E il tutto è lentissimo Questa cosa avviene Verso metà film E tu dici Ma Cristo Ci sono andato a vedere un film In cui pensavo Si parlasse di un serial killer E di quelli che cercavano Di catturarlo Invece per tutto il tempo Mi metti i loro due Che vengono esiliati Ma che due coglioni Allora Chiamalo Accurata Trasposizione D'elettrocità La Russia Sovietica E basta Cioè Non chiamarlo C'è il 44 Perché Il fatto del bambino Nr 44 Passa in quarantesimo piano Anche il fatto che lui Sta cercando Di Vendicare Il figlio Dell'amico Che è stato ucciso Dall'assassino Poi anche qui L'assassino Quando fanno vedere Con la scena Lui nel capanno Che evidentemente Dimostra Di aver subito D'attrocità allucinanti E cerca di affogarsi Con quel metodo Di tortura Per cui si mette Un panno Sul volto E si inizia A rovesciare Un'ingente quantità Di acqua Per annegare Proprio La vittima Un strumento di tortura Purtroppo molto utilizzato E anche lì Cioè Mi metto Questo Secondo In cui il personaggio Sclera E abbiamo Un assassino Psicopatico No Ci sono Costruzioni Anche lì L'assassino A un certo punto Va da questo bambino Come abbiamo visto Fare in altre scene E a un certo punto Scopriva che questo bambino In realtà è il figlio Questa cosa Di lui che ha famiglia E una moglie Non verrà mai più spiegata Non verrà mai più tirata fuori Era una cosa Che potenzialmente Poteva essere Molto interessante Non hanno voluto Sfruttarla Io ripeto Non c'era nel libro Questa cosa Tanto ti si è preso Tanta libertà Che approfondirla Al di fuori del libro Non ti costava un cazzo Anzi Ne guadagnava il film E invece no E invece no Hanno preferito Omettere tutto questo E stereotipare L'assassino massimo Finchè alla fine Il protagonista Non si trova Avanti a lui Questo qui inizia A attaccargli il pippone Dicendo che Lui ha subito gli orrori Che loro due sono uguali Eccetera Da qui poi lui si chiederà Se sarà un mostro Il protagonista Poi arriva Rossini Spara in testa l'assassino E basta Chiuso Ma mi risolvi così a culo Una roba del genere Cioè mi fa incazzare Questa cosa Cioè Ma mi fa incazzare Perché non va bene Non è giusto Non è rispettoso Nei confronti Di chi voleva vedersi Un film di un certo tipo Allora a questo punto Metti subito Le carte in tavola Fai capire Su cosa cazzo Stavi puntando Il focus E l'accento Perché così Non si può assolutamente fare Troppo 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 Tutto tirato per i capelli Quindi non lo so Poi di altre particolari scene Che mi hanno colpito E non ce ne sono Ma ha colpito Non ce ne sono Non c'è niente Che mi abbia particolarmente Fatto pensare Wow Ma sto guardando una figata No Era tutto molto lì Molto buttato lì Quindi non lo so Niente Questo era quello Che pensavo Un po' più Nello specifico Di Child 44 Perché ripeto Di altre cose Non ce ne erano Vi dico la verità Ma proprio no Non ne ho trovate Non c'era niente Che mi abbia colpito Quindi Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Nello specifico Contrassegnando Il vostro commento Se fate spoiler Quindi io spero Di non avervi notato troppo Noi ci vediamo Al prossimo Ciao a tutti 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 Ciao a tutti